pronta buona sera a tutti e benvenuti bentornati in una nuovissima serie sul mondo della pigelmon e siamo piscini piscini piscio io vabbè sono un po più altino lei è una testa che praticamente è un quadratino infatti quando non so cosa è successo quando ho messo la morte della testoline gli è successo qualcosa alla voce ed è impassita quindi può che la vitele che non va bene c'è lei signorina eccola è completo è completamente impassita avete visto anche voi proveremo a fare quello che lascia ma dobbiamo dire mi lasciate mi piace tutta la roba che fatica però a ragazza metterla a busto soprattutto questa che crash in due secondi ragazzi mettete like se questa voce vi fa tenerezza mi fa almeno fare un sorriso perché allora visto che lei piccolina lo sa cosi è la prima cosa che dobbiamo fare M 되는데 guardi i vetti da un giorno Sì ma sì 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 pati picchiare Papここ bear babolla lì babolla lì papolla lìì aspetta ma io ho visto delle uova dove ho visto delle uova di porcamo uova 2 x ktt nooo non erano così no 6 ma mЯ non lo prendi non c'era ci arrivo guardate che c'è uno piccolo piccolo dove andate dove andato stanno ma ti vedo eccola allora iniziamo ad esplorare piuttosto di stare qua non c'è qualcosa è una montagnosa montagna vuoi scalarla no dobbiamo dire gli obiettivi parla con i ragazzi quali sono gli obiettivi cosa dobbiamo fare in questa serie allora ragazzi noi siamo praticamente padre e figlia dobbiamo però vivere in questo mondo di mostri no e pokemon dobbiamo catturarli tutti dobbiamo vederli tutti dobbiamo diventare bellissimi bravissimi è passato un po' più freddo davvero allora direi che prima cosa che facciamo di oggi madonna la riporto io sta qua comunque presa sta bacca pesa pesa aspetta come si faceva a la moda non della pixel mon delle testoline delle testoline da eccola che questa qua lo seguo come una danata che la seguo come una danata è uno dei miei youtube preferiti e bravissimi coppi anche se io faccio togare allora io direi facciamo una cosa basi io direi iniziamo a prendere un po' di legna un po' di cose basi lavoriamo un po' e portiamoci un po' le mani lo so è una bambina tocca ma un castro e non fai scone c'è un gas è un fantasma guarda che lascia le correggie ma è il castro non è la puzza quella mi scusi bambina signorina allora io ho un pokemon bellissimo perchè io volevo prendere il pokemon d'acqua solo che papà me l'ha rubato l'ho preso per il meglio di te a parte questo fennikiii è bellissimo vai ciao è piccelino invece il mio è un bellissimo è fenikip fronky invece perché è focchi focchi è frocchi fronky sono anche in inglese eh perchè tu invece è piccelino e il mio invece è bellissimo ma per piacere ma mi fai ma una volta andiamo allora signorina bambina deve sporcarsi le mani su lavori lavori aiuto non riesco a saltare papà non ci vede un caccio guardate che bello il banco da lavoro questa texture guardate che figo puoi vedere papà guarda sulla destra no papà devo prendere il legno non passare ma poi con quelle bracioline guardate oh mio dio è un po' bugata la texture no neanche tanto si ma dove guarda il sa se fai la e si con la testa del personaggio si quella è un po' bugata ma beh allora banca da lavoro che facciamo mi fai shoo una ascia e mi fai shoo una pala intanto qui non ci sono i mappi cattivi 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 che urlano allora cos'è che fai ho trovato altre pacche io raccolgo le pacche cos'è che serve per fare una pokeball che non me lo ricordo più un ferro e allora andiamo in minierda nella minierda ma io non ho fatto niente perchè e perchè io sono piccolina non posso lavorare ma cosa c'entra quella che sei sfaticata te che è dove andata oh come ti permetti ti chiamo la mamma chi è la mia mamma è sparita in cina chi è la mia mamma è sparita in cina è sparita in cina ma per favore dove sta andata mi sono perso aiuta dite quanto ragazzi ditemi quanto rompe le balle la cosa che fa la voce così tutto il video eccola qui una miniera papà mi ha un piccone andiamo andiamo a prendere il porro il porro il perro ho capito il porro ho capito il porro il porro che c'è in testa il porro della strega vedete avevi visto i carli c'era pure lì che schifo ai carli no era bello faceva ridere ma guarda scotta c'era lì la guarda che l'ha visto la il rupert la verrucca sulla faccia cos'è che ha trovato una tartaruga dove è andata in cina è andata ma sono su papà che cosa è la tartaruga? quella è una tartaruga con il puscio rosso secondo te io la vedo è tondo eh? si con una testina gialla si è uno shackle uno shackle uno shackle pokemon muffa uno shackle pokemon muffa che chi focus papà il banco di lavoro l'hai lasciato giù veramente stavo ancora raccogliendo del ferro ferro? vabbè un piccone papà mi sono fatta lavoro questa non sa neanche camminare cioè questa già inizia a lavorare non sa neanche camminare c'è veramente ma viena miante viena miante io vado a scuola papà si si ti ho ritirato alla scuola solo per un motivo eh no oggi è canta eh ma che anta la maestra dice che bisogna passare del tempo con papà Bert si ha bugiato la scuola realmente nooo non si bugia non è vero ecco il pollo oh oddio queste texture sono bruttissimi oddio le uova oddio cos'è oh è la cacca di pollo ma che come cacca di texture hanno come push ma non ho parole per la texture che hanno scelto per le uova ma oddio mai visto che com'è il pollo si ho visto ce n'è uno anche qua sopra corra corra qui corra qui ma papà piano perché mi faccio male si intanto si fa male lo stesso prenderò le canne papà non si fuma ma cosa c'è entra la maestra fuma sempre in classe ma cos'è che fuma tanto per esattezza le sigaretta elettronica ah pensavo le canne pensavo le canne eh cos'è cos'è ah il minerale nuovo dovrebbe essere prendiamolo questo che cos'è questo che cos'è questo che cos'è alluminio ah questo è rubi questo qui è coso mi si chiama topazio il topazio topo aia papà fa mi uscire ma la donna sei ingombrante ma questa rabbizialina che cos'è ferro ah è ferro questo boh con questa text non si capisce con questa text non si capisce con questa text è ferro a coveggio ma servono le bacche ma cos'è questa papà aspetta che ho finito il mio vedo un cavolo aspetta un rubino non vedo niente mi serve la luce mi serve la luce mi serve la luce una festa eh eh ma hai preso almeno un regalo spero no se mi sei il regalo ahahah ma per piacere aspetta allo allora ragazzi ma diteci sono stati promossi e bruciati ho bruciato io sono stata promossa non da me sono una brava pinta la maestra mi vuole tanto per me a scuola da me lei è stata bocciata in piede metta a cuocere il ferro lei invece signorina non è vero io sto scavando il ferro e sono brava e sono stata provata si va la metta a cuocere ma aspetta che lo sto raccogliendo ecco beh lenta papà cosa è successo ma è vero che tu avevi una serie della pixelmon tempo fa dipende quale ah quella che abbiamo provato a fare secoli e secoli fa avete provato perchè io non c'ero ah è vero lei è la zenka sbagliata lei era la zenka più grande quella del futuro la zenka del futuro quindi siamo indietro penso che ce ne sarà un'altra quindi siamo indietro nel tempo adesso si perchè io sono tornata a bambino io prendo la bambino io prendo la bambino avanti o indietro indietro avanti e avanti e indietro pinguino ma per piacere sono fidanzata oh madonna chi è questo qua chi è questo qua chi è quando arriva a casa quando me lo presenti quando arriva a casa vieni a scuola con me quando è che arriva a casa ti devo tirare gli orecchie ti chiamma Gino ma un nome migliore potevi trovarlo no eh ma hai inventato mica te lo dico veramente perchè poi tu vieni a scuola e lo picchi così ma guarda che prima o poi lo trovo eh nooo ti spio no fatti premerenda con me ah eh grazie per aver me lo detto e quando tu non lavori lo invito a casa per 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 tanto studiosi eh tanto studiosi ma per piacere papà guarda che cosa faccio ho paura lo sto già facendo che cosa ma non funziona vuole fare qualcosa che cosa ho qualche problema con i tasti eh sì qual è il problema con i tasti eh non mi funzionano le tasti della tastiera solo quello non funziona quindi mi devi comprare una tastiera nuova papà e vorrei quella della blast no della eh no della razor pure eh sì perchè i miei amici ce l'hanno sì sì è quello che volevo fare non ci ah ah ti facciamo le armature anche papà no eh presto aspettiamo ciò ma come parli? ciò cos'è ciò? come parlano i vecchi i vecchi? io lo sapevo non l'ha mai detto non l'ha mai detto sei da decupito come le piaghe cos'è che c'ha? c'è una nonna giuberna fermi tutti te a scuola impari troppa roba che non so troppe parole che non conosco ti dice che ti devo ritirare da quella scuola così non vedi più il fidanzatino la maestra? no! e lui è un mio amico speciale non puoi ritirarmi perchè devi chiedere il consenso della mamma e la mamma non approva ma è stata la mamma non si sa chi è quindi i nomi gli iscritti la decideranno decidete il nome della mamma di Asenca la Asenca del passato o del futuro? del passato piccolini ma perchè? io sono tre anni quanti anni ha? io ne ho quattro quanti? quattro quanti? di bene sei mmm io sei anni e quello del passato? ma è del passato ma non è mica giovane quella del passato oh io sono giovanerrimo mio sedici va bene? una bella differenza da sei a sedici ma allontano un po' guarda cos'è la biscia? eh no devi guardare dentro guarda come muove il sedilino sembra quasi che la testa troppo pesante per essere sollevata non è vero ma non ce la insegnano guarda? ma ti devo ritirare da quella scuola anzi mi sa che li denuncio direttamente guarda e se poi mettere la mamma metto la mette la patta e mi sa che li devo far dire alla maestra e dargli più compiti no io e studiato ad Adito Ma cosa? Non esco mai Dove? Ma sei sempre dall'amichetto Non è vero Invece sì Usciamo da qui Stavo scelto, sai tu che ti sei messo a fare L'incrocio con una top model Aspetta, questo è un poink Spink Allora c'è ragione Hai detto poink Ma quello l'abbiamo già visto Ma quello che ti dà una sberla Ti fa male Con una sberla dovrebbe ribaltare un treno E ha pure perso tra l'altro Ma forse Baccherossa Baccherossa Finalmente Presa No, volevo io Ma sono fatta la bua Ma sono forte Ma proprio Ma parliamone La lava, che bella È rossa Questa texture È rossa, 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 rossa È rossa come un pomodoro Un pomodoro Ma hai mangiato la verdura Che ti avevo messo nel piatto oggi? Che verdura? Ti avevo messo pomodoro e zucchine E i carciofi E i carciofi Che cifo Non li hai mangiati tutti Sicura? Sì Papà non gracchiare Noiosa Bene ragazzi Spero che all'inizio di questa mini avventura Vi sia piaciuta Con la mini asenca Madonna Con la mini asenca Gagno un microfono gracchiante Che mi fa sembrare Un vecchio Ma che noiosa Quindi ragazzi Spero tantissimo Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Condividete con tutti i vostri amici Se siete arrivati fino a qui Scriverete Hashtag mini asenca Hashtag asenca Rompicoglioni No Quello non serve l'hashtag Guarda le mucche Che miltank sono Che fighe No sono bruttissime Ma c'erano le tate di fuori Porcelline Quindi ragazzi Mi raccomando Mettete mi piace Mettete l'hashtag E Ma che bello C'è la pianura poi Quindi ragazzi Mi raccomando Mettete like Per farci vedere Se la serie E possiamo dire Che Vai Aspetta aspetta Ti zoomo Vada lontano No Vada E' finita Yeah E' finita Perché Cioè perché Devo Devo collaborare Con certa gente Guarda E' finita E' finita E' finita E' finita E' finita